Ma guarda che fotografie, ma che ci fai? Oh, finalmente! Il boss! No, no, non mi chiamate boss, non mi chiamate boss, no, boss no. Non lo chiamate proprio! Come ci mettiamo, come ci mettiamo? Allora, Giacinto in mezzo alle ragazze, e tu a capotavola. Mammo, buon proveggio! Buon proveggio! Che bello mangiare tutti insieme oggi, eh? Sì, è vero. Allora, capo, cosa fai di bello nella vita? Eh, non facciamo domande indiscrete, noi siamo discreti. Diciamo che lavoriamo per conto di... Per conto di zio, sì, per conto di... Lavoriamo per conto di zio, di zio. Vabbè, niente misteri, dai. Che fate nella vita? Che facciamo? Eh, che facciamo nella vita? Diciamo che ultimamente da un bugio. Vabbè, dai un po' come noi, insomma. La nostra è un'attività molto conosciuta, sparsa in tutto il mondo, avviata, anzi, avviatissima. È un franchising, sì, è un franchising. Diciamo, no, è detta così, è diciamo che è un franchising. Diciamo che non siamo improprio, proprio. Abbiamo un amministratore delegato a Roma. A Roma, sì, a Roma. A Roma, perché lei lo ha preso. Elegantissimo. Io non lo suggerirei altro. Ora, se sei così espansivo nella vita, carnevalesco, ma io starei zitto, ora, capito? Un po' di mistero, no? È bellino della vita.